Per te è una permanenza in Puglia, questa volta però con una casacca diversa. Com'è stato l'impatto con i tuoi nuovi compagni e con il nuovo staff tecnico? Molto positivo e giustamente hai detto bene, sono rimasto in Puglia in questo girone che secondo me è il più bello e il più difficile di tutta la Serie D. Comunque mi hanno accolto benissimo, la squadra la sto vedendo molto bene, i ragazzi con tanta voglia di lavorare, di fare bene, quella è la cosa più importante. Se dovessi porti un tuo obiettivo personale per questa stagione, quale sarebbe? Ovviamente di fare la massima quantità di gol possibili, ma sempre l'obiettivo principale è vincere e dare una mano alla squadra, poi i gol arriveranno. Il calcio straniero rispetto a quello italiano cosa ti ha dato? In Argentina mi ha dato tanto perché comunque ho fatto tutta la scuola calcio, il settore giovenile è una squadra di Serie A molto importante, quindi ho imparato tantissimo. Però l'Italia ti ha dato una possibilità poi di stabilizzare la tua carriera? Ovviamente, sì, sì, l'Italia mi ha aperto le porte quando in Argentina giustamente erano chiuse e sono molto grato all'Italia e qui sto cercando di fare sempre il meglio possibile.